Un protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'ufficio scolastico regionale e l'Associazione Nazionale Bersaglieri è stato firmato a Sandona di Piave per promuovere la conoscenza della storia locale. È stato un momento emozionante perché abbiamo siglato un protocollo con cui i bersaglieri e l'Associazione dei Bersaglieri Nazionale alla presenza del loro Presidente Nazionale andranno nelle scuole a parlare di patria, di storia d'Italia, di storia del Veneto. per l'Italia e soprattutto dare buon esempio. Una firma che assume un significato internazionale particolare proprio con la ricorrenza del centenario della Grande Guerra 15-18. L'Associazione Nazionale Bersaglieri, avvalendosi anche della collaborazione degli enti locali ed intesa con le scuole, si impegna quindi a realizzare attività rivolte agli studenti in occasione di raduni e manifestazioni che si svolgeranno nel territorio veneto a carattere locale, provinciale e regionale per terminare, a conclusione del percorso di commemorazione della Grande Guerra, con il raduno nazionale dei bersaglieri che si terrà proprio a San Dona di Piave nella primavera del 2018. Tutto il veneziano ha un rapporto speciale con questo corpo. È molto forte, era una zona di reclutamento durante la leva e poi insomma i bersaglieri sono stati i protagonisti di pagine eroiche della storia d'Italia, anche quelle più straordinarie. Pensate che c'è una frase magnifica detta da Rommel, uno dei più grandi combattenti della storia, il soldato tedesco stupì il mondo, il bersagliere italiano stupì il soldato tedesco, detta in occasione di El Alamein. Ecco, nella nostra provincia di Venezia tanti sono i bersaglieri che ricordano quella storia. Grazie a tutti.